Allora, siamo a metà della prima partita, Pamela Pugliese all'hotel, e comunque ha spingato lo schianzo. Pamela, Pamela è in buona forma, da ieri, la sua condanna è a nove anni, però li chiude, quindi Antonella Carboni, anche lei in ottima forma. Oddio, vabbè poi taglio i commenti audio. Vediamo il decimo tren dell'Aterioni. Eccolo. 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 Grazie Ai 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 Ecco Pamela in splendida forma Ci abbiamo quattro strike Così detto hand bone Un nove ogni tanto Diciamo che questo ci vorrebbe Pamela ha preso un master in birillologia Con specializzazione nel birillo 10 Antonella Ah lei è andata Grazie 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 Grazie.